Qui siamo al tredicesimo minuto da Ferri a Baresi, qui l'Inter va in vantaggio, il servizio è per Collovati, colpo di testa e Reco, Merazuri in vantaggio per 1-0. Due minuti dopo premono i Granata, Hernandez ostacolato da Ferri e Müller va a terra, l'arbitro Paparesta decreta il rigore, Hernandez trasforma 1-1, andiamo al trentaquattresimo, Dossena strappa a Müller il pallone, serve Schaffner ed è reto, 2-1. Ora passiamo alla ripresa, al terzo minuto Collovati entra in area, c'è l'intervento di Perraneo, Collovati va a terra, ancora rigore, Altobelli però, vedete, manda sul palo. Quarantesimo, fugge Schaffner, bella la discesa di Schaffner, inseguito e poi atterrato da Ferri, ancora una volta Paparesta dice rigore, è il terzo della partita. Hernandez si incarica di trasformare, 3-1 per il Torino.